Una città accessibile per tutti, un progetto che parte nelle prossime ore, a che cosa porterà? Porterà una mappatura della città in questo momento partendo dai luoghi pubblici, il comune, i parchi, le chiese, le piazze, insomma tutti i luoghi della comunità per capire quanto sono accessibili per le persone con disabilità o anche per capire come possono essere migliorati nella loro accessibilità. E' un primo passo verso l'idea di una città completamente a misura di cittadino che è accogliente per tutti e che al di là delle differenze riesce ad essere vivibile per ciascuno. Questo ripete il primo passo verso un percorso più ampio e lo facciamo orgogliosamente con le scuole. E' un messaggio doppio, da una parte la competenza dei ragazzi, dall'altra parte l'investimento su una civiltà che si costruisce soltanto iniziando insieme a fare le cose. Questa app in pratica serve proprio alle persone con disabilità ma non solo a loro perché è un'applicazione stata dedicata sia alle persone con disabilità ma anche a neogenitori e a persone allergiche e intolleranti agli alimenti. Niente, questa cosa che andremo a fare è una mappatura insieme agli studenti di alcuni istituti qui del territorio dove andremo a fare una fotografia nel dettaglio di ogni singola attività dello stato attuale in modo che la persona con le proprie esigenze può valutare se andare in questo luogo oppure no. Quando più o meno sarà pronta? Quali saranno i tempi? Allora, l'applicazione è già funzionale però con le mappature qui nel comune di Arezzo partiremo proprio domani mattina. Quindi già da domani pomeriggio troverete quelle attività che avremo già mappato insieme agli studenti.